Possesso di droga, resistenza e violenza a pubblico ufficiale, detenzione abusiva di armi. Queste le pesanti accuse per cui sono stati condannati Marco Parascandolo e Marciano Gatti, i due ragazzi di Venafro di 27 e 29 anni arrestati la notte dell'8 maggio dell'anno scorso dalla squadra mobile di Sernia. Il giudice del Tribunale di Sernia ha stabilito per il più giovane la pena di 5 anni e 8 mesi e per l'amico 5 anni di reclusione, non solo perché entrambi dovranno sborsare 20.000 euro a testa di risarcimento nei confronti dell'allora dirigente della mobile Luigi Vissicchio e di due poliziotti con cui ci fu una colluttazione. Gli agenti difesi dagli avvocati Stefano Cappello e Raimondo Fabrizio saranno risarciti anche in sede civile. Al termine del processo, celebrato con rito abbreviato, il giudice non ha riconosciuto nemmeno le attenuanti generiche ritenendo valido l'impianto allestito dalla pubblica accusa in seguito al blitz di quella notte di un anno fa. Si tratta della condanna di primo grado contro cui i legali della difesa si opporranno presentando appello. Parascandolo e Gatti, considerati fino al momento dell'arresto i detentori di un imponente giro d'affari legato allo spaccio di droga, hanno trascorso nove mesi in cella e da febbraio sono ai domiciliari. Gli avvocati in sede di discussione hanno però chiesto la revoca della misura e la remissione in libertà. Il blitz scattò nel piano centro di Venafro, i poliziotti tenevano d'occhio i due e durante un appostamento, notando movimenti sospetti, decisero di intervenire. Fecero irruzione in un garage in cui c'erano i ragazzi e nel tentativo di bloccare uno di loro nacque l'aggressione. Qualche istante dopo trovarono 6,5 kg di marijuana, 68 g di cocaina, 91 di hashish, uno dei quantitativi più grossi mai sequestrati in provincia di Isernia, che avrebbe fruttato ben 160.000 euro. Nel garage vennero rinvenute anche delle armi, una beretta calibro 7,65, due balestre, sei pistole modificate prive del tappo rosso, un fucile a piombini, una mazza da baseball in ferro, tre coltelli e un'ascia.